massimo masanti primo classificato al side venda 440 euro ne porta a casa circa 6.000 non male non male per la seconda volta che vengo qua grazie e poi non è un momento negativo al gioco perché già avuto risultati buoni no abbiamo fatto un terzo posto l'ipo che non è male che devo dire bel periodo bella storia allora ho notato che tu al tavolo dai letteralmente spettacolo io penso che la vita sia uno spettacolo se non se non prendi la vita come uno spettacolo non puoi andare avanti nella vita secondo me dopo ogni testo un piccolo mondo ti ho sentito anche cantare una canzone di raffaella carrà ah la di trieste come è vero a fare l'amore a trieste dimmi quando hai vinto uno lì eh per forza vamos o vamos o cantiamo no e adesso altri tornei noi abbiamo l'ipo da 15 di aprile a 17 comunque voglio ringraziare l'organizzazione per il bel torneo e vamos poche club